Sono due i soggetti che nella serata di mercoledì sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri del comando Compagnia di Casarano ed emessa dal GIP del Tribunale di Lecce sul richiesta della locale Procura della Repubblica. Detenzione porto illegale di pistola, accensioni ed esplosioni pericolose, danneggiamento aggravato e minacce. Questi reati contestati ai due un 34enne di Alliste e un 42enne di Ugento. Il primo, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato il mandante di un atto intimidatorio avvenuto all'alba del 6 gennaio scorso. In particolare, il 34enne Allistino avrebbe ordinato all'altro soggetto, originario di Ugento, di sparare sei colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di un 37enne di Alliste, cosa che effettivamente avvenne come testimoniano i video trovati sui dispositivi telefonici di entrambi. La motivazione del gesto sarebbe da ricercarsi in un diverbio che la vittima avrebbe avuto con il mandante poche ore prima nella centralissima piazza San Quintino. Qui il 34enne di Alliste avrebbe fatto esplodere un grosso petardo alla presenza tra l'altro di minori, situazione che avrebbe fatto alterare la vittima dell'agguato corso in protezione dei figli, ma che avrebbe ricevuto poi minacce con un coltello e bastone, trasformate poi nella promessa di raggiungerlo a casa con una pistola. La stessa calibro 7,65 che è stata rinvenuta a casa del soggetto nel corso di una perquisizione domiciliare. Per entrambi gli indagati è stato disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria.